Il negozio del futuro sarà un negozio che risponderà alle esigenze dei nuovi consumatori. Quali sono i nuovi consumatori? I nuovi consumatori sono i ragazzi che sono nati a fine millennio e inizio di questo nuovo millennio. Sono ragazzi che cercheranno di ritornare nel negozio fisico, quindi nel cercare un'esperienza all'interno del proprio momento d'acquisto. Sarà una shopping experience, ma come sarà questa shopping experience? Sarà una shopping experience digitale, connessa, iperconnessa, per cui i nostri negozi dovranno avere tutte quelle tecnologie e strumentazioni che permetteranno appunto questa esperienza. Si va dai camerini intelligenti e immersivi dove uno si prova i propri vestiti e potrà vedere come stanno questi vestiti con le luci della discoteca piuttosto che con le luci del sole eccetera. permetteranno di acquistare immediatamente e quindi di sostenere quello che può essere anche un acquisto impulsivo, ma soprattutto saranno connessi con il mondo esterno, per cui chi acquisterà il proprio vestito e scoprirà di stare bene con quell'indumento potrà mostrarlo subito nei propri canali sociali. Grazie. 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 Grazie.